Bentornati sul canale, allora voglio fare finalmente un video che vi piace tanto e che mi avete chiesto, un video sui detersivi. Allora, io oggi voglio parlare, effettivamente una tipologia di video ancora non avevo fatto, voglio parlare dei miei irrinunciabili in casa, quindi quei prodotti che io regolarmente compro perché mi trovo bene, perché comunque non posso realmente rinunciarci e quindi mi trovo talmente bene che lo compro sempre. E quindi adesso ve li voglio consigliare, non parliamo solo di detersivi per bucato, ma parliamo anche di prodotti per la casa. Cominciamo con il primo, a cui io ormai non posso assolutamente rinunciare, ma sicuramente voi conoscete molto molto bene e parlo di lui, del Viacal. Chi non conosce il Viacal, ho provato veramente tantissimi marchi, anche Lidl, Eurospin, però trovo che il Viacal, quello originale, non vada per niente a rovinare le rubinetterie, quindi tutto ciò che è in acciaio. Trovo che Viacal lo rispetti tantissimo, certo il prezzo è, spesso e volentieri io lo trovo in promozione, quindi sarà che lo prendo quasi sempre in promozione, comunque devo dire che certo rispetto ad altri è un tantino più costoso, ma è efficace e continuerò a prenderlo, soprattutto questo spruzzino, perché comunque lo spruzzo nelle rubinetterie dei bagni è, niente, passo la pezza ed è fantastico, brillano, brillano tanto. Quindi questo ve lo raccomando, insomma non penso che abbia bisogno di raccomandazioni, ma per me è uno dei primi irrinunciabili. Secondo prodotto che vi voglio raccomandare, allora avendo degli animali in casa e in questo momento ho due gatti, vi volevo raccomandare questo Rio Casa Mia detergente ammoniaca super profumata, igienizzante, allora è favoloso, si sente tantissimo questo sapore di questo profumo di ammoniaca, la sensazione di pulizia c'è, mi trovo veramente bene, non fa tantissima schiuma e veramente lascia anche il pavimento molto molto lucido. Mi piace molto la resa di questo detergente e devo dire che mi sta piacendo davvero tanto e credo che come detergente appunto per i pavimenti che vada proprio a igienizzare, penso che comprerò questo, cioè continuerò a comprarlo, perché questa è la seconda volta che lo compro ed è fantastico. Lo posso utilizzare anche per i sanitari, per i fornelli, sbianca e smacchia anche tutti i tessuti, moquette e tappeti, quindi a volte capita che lo metto anche in uno spruzzino magari con un poco di acqua, lo spruzzo sui tappeti e poi passo l'aspirapolvere. Insomma, ripeto, a livello di igienizzante è fantastico, soprattutto perché appunto non fa tantissima schiuma. L'altro rinunciabile è che all'inizio era un po' così, ma devo dire che quando voglio fare qualcosa di veramente veloce, una pulizia davvero veloce o lo straccio o il mocio ben umido e quindi bello pulito, basta che spruzzo un poco di questo nel corridoio, in cucina e o anche nelle camere, devo dire che questo è fantastico, quindi quando non ho proprio il tempo di andare a fare una serie di straccio nelle stanze, quindi quella pulizia ben accurata e profonda, ma voglio fare appunto qualcosa di veloce, mi trovo benissimo in questo emulsio naturale. Questo lo si spruzza direttamente sul pavimento, lucida tantissimo i pavimenti e li pulisce davvero a fondo, il profumo è fantastico. Io questo lo compro regolarmente e a volte capita, perché io sono comunque malata di pulizia, capita a volte anche la sera dopo che ceniamo, faccio la cucina eccetera. Questo, insomma, per andare a letto do una spruzzata così in cucina, che non è grandissima, passo velocemente un panno umido oppure anche lo straccio, come vi dicevo prima, bello umido e niente, vi dico che è fantastico, perché i pavimenti li rende veramente molto puliti e molto lucidi. Quindi questo è il mio terzo irrinunciabile. E ne ho parlato, l'ho anche consigliato a diverse amiche, parlo di lui, parlo della crema detergente al limone della V5 che compro alla Lidl. Questo diciamo che è il dupe, il simil, cif crema, insomma quello originale sarebbe appunto il cif. Allora, io questo, niente, questa è la terza volta che lo compro, mi trovo benissimo quando devo disincrostare delle pentole, delle padelle, e questo è favoloso. Lo metto proprio un poco a riposare nelle padelle o nelle pentole, è sgrassa, che è una meraviglia. Rispetta anche lui l'acciaio delle pentole. Io ho una batteria di pentole in titanio, ma devo dire che è fantastico. Bisogna comunque sciacquare molto bene le pentole, perché comunque essendo una crema sta molto di più, una crema molto grassa, diciamo molto consistente, sta molto di più a venire fuori. Però il risultato è fantastico, di pulizia, di brillantezza. Quello che c'è scritto qua dietro, ve lo leggo subito, rimuove efficacemente unto e sporco ostinato, ideale in cucina per la pulizia di fornelli, pentole, piastre di cottura in ceramica, piani di cottura e lavandini. È anche ideale per il bagno, per la pulizia di vasche, box doccia, lavandini, wc e piastrelle. Quindi se non volete spendere tantissimo per comprare una crema detergente di questa consistenza, andata alla Lidl, ed è assolutamente ideale, insomma ve la consiglio. Io mi ci trovo veramente, veramente bene e l'ho consigliata a diverse amiche e amici. E poi dura, dura un bel po'. Questa è la mia terza bottiglia, insomma, sono 750 ml, considerando che, bene o male, una sera sì, due sere no, insomma si sporcano padelle, padellini, tutti i tipi, insomma, devo dire che fa egregiamente il suo lavoro. Poi, altro prodotto della V5 che mi piace tantissimo è questo deodorante per tessuti che compro appunto alla Lidl. Questo lo spruzzo a volte anche sulle giacche delle divise dal lavoro, magari il giorno prima, o se c'è, insomma, da profumare velocemente la casa, dalle tende, ai tappeti, ai divani, alle poltrone. Ha un profumo davvero, davvero fresco. Anche nelle imbottiture dei cuscini, insomma, anche qua è specificato, rimuove cattivi odori da tende, vestiti, cuscini e imbottiture. A volte magari vi capita che abbiamo fatto un sabato sere in qualche frigitoria, in qualche polleria o in qualche panineria, insomma, o si è arrostito a casa di qualche amico. Magari capita che i capi messi anche in un'altra stanza, in un appendiabiti, o anche il cappotto stesso, si possa assorbire di cattivi odori veramente da cucina e, certo, non è che subito l'indomani dovete portare il cappotto in lavanderia, vi posso consigliare che, spruzzando un poco di questo e mettendolo fuori, magari appeso, o in un bagno o in un'area comunque areggiata, io, nel mio caso, ho una lavanderia, il cappotto non ha più quel cattivo odore o il capo, il giubbotto, quello che sia, ed è profumato e neanche sembra, insomma, che l'avete indossato in quel contesto particolare. Insomma, questo lo trovate comunque alla Lidl, nel reparto, proprio dopo il detersivi dei piatti, credo, nella parte in alto. Fate attenzione perché non sempre è presente. Ci sono periodi in cui io non l'ho trovato, periodi in cui si trova facilmente. Altro, irrinunciabile, per chi mi conosce bene, insomma, lo sa veramente a tanto tempo, io non riesco a non comprare altri detersivi che non sia lui, il mio Nelson. Nelson piatti, che sia quello al carbone, che sia quello all'aceto, che sia quello al limone, fra questi tre io preferisco sicuramente il più classico, il Nelson al limone. E addirittura mi sono comprato ultimamente la confezione in offerta da quattro o cinque bottiglie di Nelson. Insomma, devo dire che il risparmio c'è stato tantissimo. E dopo averne veramente provati tanti, soprattutto dal punto di vista di spreco, perché se spendi 90 centesimi o un euro in un detersivo dei piatti, dove per fare, insomma, una cucina, 10 piatti, pentola, insomma, ne sprechi in mezza bottiglia, perché è tutta acqua e non sgrassa niente, preferisco comprare lui. Spendo magari quell'euro in più, ma sicuramente a prima botta, parte subito e pulisce immediatamente. Quindi proprio a lui ormai non rinuncio mai più. Altro, altro, altro irrinunciabile quando si fa la cucina, si cucina la sera o a pranzo, insomma, si fa il fumo della carne arrostita, oppure c'è la gatta che ha appena fatto i suoi bisogni e quindi in casa si sprigiona un bellissimo odore di gatto che è appena stato in bagno nella sua fantastica lettiera, oppure, insomma, vogliamo dare un'aria fresca alla nostra casetta, io ormai compro solo lui. Lui, parliamo sempre di emulsio, parliamo di il cattura odori e lui, devo dire, che è molto simile a un altro prodotto che è un po' più costoso ed è Haust. Ecco, l'Haust, anche lui, devo dire, che se la giocano. L'Haust, credo che sia stato proprio, questa è una copia, cioè, si capisce proprio che ha copiato, però, devo dire, che anche lui se la gioca abbastanza molto, molto bene. Tendo sempre a spruzzarlo proprio nell'aria oppure nelle parti basse in cucina in modo tale che realmente acchiappa i cattivi odori li neutralizza e non ti fa sentire più quel cattivo odore. Insomma, rispetto a tutti quelli che ho comprato che siano Glad, che siano... adesso non mi vengono altre marche, insomma, no, no. Preferisco neutralizzare più i cattivi odori e spendere sempre quel tantino in più e magari profumare la casa con una bella candela, ma questo ve lo consiglio davvero perché credo che neutralizzare gli odori sia, e non coprirli, sia la cosa migliore, ecco, se dobbiamo proprio eliminare il cattivo odore. ultimo, ultimo prodotto, qua il sole va e viene, sembra veramente di essere un po' Barbara D'Urso della situazione e allora questo l'ho comprato, lo ricompro da anni, non ci rinuncerò mai, fino a quando esisterà questa azienda, io continuerò a comprarlo ed è lui, il mop della Stenom. Stenom, vabbè, purtroppo non si trova nei negozi, chi ha un'amica, chi ha una rappresentanza o anche come un evento online si può acquistare, se volete un antistatico eccezionale, comprate lui. Questo l'ho trovato in offerta a 7,50 euro, credo che sia in questa campagna, ne ho comprati ben due perché veramente ne uso tantissimo per spolverare sulla scopa di lana e la camera da letto profuma di lavanda. posso permettere di spolverare anche un giorno sì, quasi tre giorni no, anche avendo due gatti in casa perché questo, oltre a togliere la polvere, crea una sorta di, proprio di barriera per far sì che la polvere non si ristagni così facilmente. Ragazzi, io mi trovo davvero bene, ci sono anche i panni, so che vendono anche i panni della Stenom, ma non ho avuto la fortuna di provarli, ma questo non ci posso rinunciare. E ripeto, con animali in casa, con tre maschi in casa, è un problema. Quindi mi affido veramente a lui con la scopa di lana, riusciamo a fare cose fantastiche. devo dire che il lavoro è eccezionale, veramente non ve lo consiglio davvero. E questo è tutto per quanto riguarda i miei irrinunciabili per la casa, per quanto riguarda le pulizie di casa, piatti, cucina, bagno, pavimenti, eccetera. Spero che siete rimasti insomma contenti, se conoscevate questi prodotti, fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere con un like se vi è piaciuta questa tipologia di video. Io sono stata veramente felice di poter condividere con voi realmente quello che io compro sistematicamente, che non rinuncio, non riesco proprio a non rinunciarci, ma perché credo veramente nelle potenzialità e ne sono sempre soddisfatta della riuscita di questi prodotti. Io vi mando un grosso bacio se non siete iscritti al canale, perché no? Tanto è gratis, ci teniamo soltanto compagnia. Un bacione, ciao!